Benvenuti in un nuovo video, oggi puntata speciale perché sono in compagnia del mio amico Fabio Bicocchi Ciao Per gli amici Bix, d'ora in poi lo chiamerò Bix Bix E puntata speciale in questa intervista perché intervisto un altro creativo Io conosco un sacco di artisti, musicisti, cantanti Ho conosciuto ragazzi che hanno pubblicato anche film su Amazon Prime Scrittori, pittori, ma Fabio Bix è il primo, l'unica persona che conosco a creare giochi da tavolo E questo è il suo primo gioco Il mio primo gioco Il Cammino de Santiago Quindi Bix, intanto grazie di essere qui ospite di questo video di Esperimenti in Garage, Red Studios Devo ancora decidere dove pubblicarlo Grazie a te per l'invito Per me, come dicevo prima, più cavi e cose del background si vedono e meglio è perché Fai proprio vedere che è un ambiente vivo, non è quella cosa apparecchiata organizzata Quindi fantastico Ovunque lo metti, più lo metti in giro meglio è Infatti ci sono tre telecamere Da lì riprendono abbastanza bene Se deve andare Niente, quindi ricordo quando io ti chiamai per il tuo estero di aver creato il Red Studios Sul mio canale Twitch che hai fatto un progetto iniziato, durato poco e finito Ma anch'io, un po' come hai fatto tu, ho cercato di portare sempre personalità differenti Per non annoiare mai gli spettatori E quindi allo stesso modo io spero di intrattenere e stupire il tuo pubblico Che non è abituato a questo genere di formato, come anche un po' tu Quindi quando pari con una persona di cui non sai niente è ancora più interessante rispetto a Riciclo una domanda standard che ho già fatto prima È bello stupirsi, ecco questo è anche un po' il motivo per cui siamo qua Creare un gioco da tavolo, vabbè ci arriveremo con calma Ci arriveremo con calma Infatti come dicevi questa è una controintervista Perché tu mi hai intervistato un paio di anni fa E sì, volevo ricambiare il favore O farmi ricambiare il favore, è un favore che ci facciamo a vicenda Appunto raccontando anche la tua storia Quindi lascio a te la parola per sfigarci il tuo percorso La tua vita, insomma i tuoi studi Che noi ci conosciamo da tanti anni però Anche tanti anni che ci siamo persi È bello anche riconoscersi Alla fine quelli che si vedono ogni giorno di cosa parliamo Più tempo passa, magari non troppi anni E più, ah sai che nel frattempo ho fatto questo e quest'altro Ah sei diventato anche Presidente della Repubblica Quello tra un po' magari Allora, come nasce il tutto? Cerchiamo di fare una cernita Diciamo io un po' come tutti i giocatori Quindi immagino come tu e persone che ci guardano Fino a 10 anni fa, 10-15 anni fa Avevo in casa Monopoli, Cluedo, Risico E ho detto dai voglio provare ad esplorare a crescere Sono andato in ludoteca E ho detto io conosco questi tre, questi tre quattro Loro ovviamente tutti partono da qua Suggeritemi qualcosa E mi hanno suggerito due o tre titoli basilari Quindi da lì ho iniziato un po' ad affinare il mio palato ludico E a dire ok ci sono i primi Dixit, Colone di Catane e Carcassone Che sono giochi che anche chi sta ascoltando Magari li ha visti perlomeno in un negozio Non solo di giochi ma iniziano ad esserci anche all'iper eccetera Quindi Sì perché c'è una manciata, una dozzina di giochi famosissimi Che tutti conoscono Ma tantissimi altri Esatto però si parte da lì Quindi da lì ho iniziato ripeto un 15 anni fa A arrangiarmi quindi andare su YouTube Che c'erano pochi canali YouTube A dire questo mi piace, questo altro eccetera E poi inglobando meccaniche eccetera i concetti Ho detto beh Non voglio dire sono un autore Ma mi viene in mente questo tipo di meccanica E mi nacque ai tempi del 2015 Quindi ormai ho Quanti sette? Nove anni fa Ecco il cambio anno ci sta dai E quindi mi nacque quest'idea Che non sapevo neanche dire se è un gioco da tavolo o no Perché c'era questa ambientazione che è anche interessante Per cui i boscaioli C'è questa plancia esagonale Ancora un gioco da fare Ma che magari autori, editori Se mi interessa contattatemi I boscaioli si trovano quattro famiglie Che vanno al centro della foresta Mettono delle trappole per lupi Questi lupi poi vengono catturati I boscaioli li addestrano E quindi aizzano questi lupi contro altre famiglie Quindi era una sorta di carneficina Ma nata così Sui banchi dell'università Però è un'idea che a livello di ambientazione Quando la racconto tra i Chiamiamoli colleghi Perché ormai sono autori quindi sono colleghi Dicono è interessante sviluppala Però è lì Fine Poi Questa idea come ti vengono? Questa infatti è stata proprio la prima Che non so neanche dire se mi sentevo attorno o no Però ho avuto questa qua Me la son scritta E condivido sempre questo spunto Per cui è bello scrivere le date in ogni tipo di idea Che sia un film, un cd Perché quando prendi in mano in foglia E dici Ah questa ha dandetta nove anni Cioè senti l'odore del vecchio E voglia di farlo crescere E quindi è bello Come è nata non lo so È lì scritta Lì Poi avevo questi Un'altra pseudo idea O concetto di Numeri e lettere che si sforzavano Se sommi uno e due otteni A Cinque sei otteni B Fine E adesso racconto come nacque la scintilla Mi trovai con un amico Un certo Alessandro Gori Che nel suo piccolo Si può dire una persona appariscente Perché è uno stand up comedy Si chiama Lo Sgargabonzi Gira da Milano, l'Italia eccetera Lui per dire Fa serate luti che è anche un maccio capatonda È andato in tv con Lundini Quindi una persona di un certo lango E quindi lui conosce un certo autore A cui ho dedicato il gioco Uno delle dediche del gioco Che si chiama Daniele Tascini E questo è uno che ha pubblicato decine di titoli È una persona stimata Non solo a livello italiano Ma internazionale anche nel mondo E lui vide in questi numeri Che si spostavano E disse Guarda non so dove arrivare Ti fermo subito Ma in te vedo un ordine O una determinazione Che indirizzati in un certo modo Parti E da lì mi è scattato il scintillo Ho detto Beh iniziamo a creare A mettere assieme cose E quindi da quel Quindi si è creato questi contatti Sì Più che contatti Cioè lui era un amico Questo Gori Era un amico Cioè è un amico Che ho conosciuto tramite Il mondo dei giochi da tavolo Ma lui mi ha presentato A questa persona Che non è che ha detto Vieni che c'è da provare un prodotto Ma faceva una storia serata E ho avuto modo di presentargli Questi cartoncini che si spostavano E da lì ho iniziato a crederci Ho partecipato a un primo concorso Chiamato The Nice Connection Dove praticamente No non si chiama così Vabbè Poi mi capo la tagli Dove ogni due anni Mandi Tutti i prototipi che puoi Che vuoi Iscritti a un 30 euro l'uno A Venezia E loro dicono Ok I primi 100 Vengono chiamati Qui alla finale I primi 10 Arrivano all'ultimo step Chi vince Poi viene messo sotto contratto E Ho creduto in questa cosa Fallendo miseramente Però da lì ho continuato a lavorare Soltanto i step Che uno prova Però è stato formativo E La cosa bella È che quando hai l'unica cosa in mano Pensi che sia la prima del mondo Poi la rivedi dopo due anni Dici Cos'è sta roba Ed è anche interessante Dere con l'occhio critico Di riprendere una cosa vecchia Come appunto parlava adesso Dell'idea dei boscaioli Se la riprendi E magari dici Ah lì c'erano dei dadi Ma i dadi erano di troppo Riesci a scremare Vabbè Fai esperienza Con il tuo percorso Con la tua carriera E poi Magari facendo anche Prendendo tutto anche da giochi Di altri colleghi Riesci Ad implementare Certi miglioramenti Per rendere il gioco Più coinvolgente Anche alla fine L'idea è la tua Ma poi metterlo in pratica Ci vuole Forse un altro tipo di esperienza È come Saper suonare qualcosa È proprio l'esperienza Che viene richiamata Un po' in questa scatola Dove ne parlerò Poi c'è la collaborazione Di tre persone Quindi io autore Ma anche l'editore Ad interi sviluppo Se dicevo Come saper suonare qualcosa Ma poi per fare un disco Ci vuole anche Chi sappia Registrarti Mixarti Produrti Voglio citare un poeta Censurandolo Dice L'idea è come fare un figlio Cioè Non ci vuole niente A fare un figlio Ma poi Tra crescere un figlio E vedere come si può rovinare È un altro discorso Quindi Di idee ne hai tante Ma Di tante idee Aver poi qualcosa che esce Quindi ecco Questo è Come ho creduto Ho iniziato a sentirmi Nei panni Di un futuro Autore giochi da tavolo Aspirante tale È bello E il tuo percorso di studi Invece è parallelo A questa Passione Dei giochi da tavolo Sì Diciamo Non so se definirlo Paraglione o meno Però dai Beh obbi che poi Si è trasformato No nel senso L'ultimo anno di università Ha dato un po' lo spunto A questo gioco di Boscolli Che prima o poi uscirà Ce l'annunciamo già Che ultimo anno di università Parliamo di otto anni fa L'università era nel 2000 Cioè poi mi sono laureato Nel 2016 Sono ingegnere elettronico Poi dopo Ho fatto un corso Di informatica a Milano Adesso sono sviluppatore informatico E per far vedere un po' La mia persona poliedrica Che poi la rivedo un po' In tutti i miei hobby E la versatilità Io ho iniziato come Liceo scientifico Poi mi sono diplomato Come geometra Per poi diventare Ingegnere elettronico E informatico Quindi Le hai fatte tutte Mi sto per iscrivere anche Alla facoltà di psicologia No Non ho abbastanza da fare Parliamo quindi del gioco Il Cammino de Santiago Che tra l'altro Io l'ho comprato Ce l'ho qui ancora in scatolato E ho la penna per autografare Dopo lo autografiamo Volentieri Volentieri Anche se Non sarà per me Lo voglio regalare Ad un mio amico Che ha fatto il Cammino di Santiago Varie volte Angelo E ha inventato Diciamo questa Side note Uno zaino Che in realtà È un carretto Uno zaino con le ruote Che te lo allacci In vita Quindi Un mio amico Ma 60 anni circa L'età di Mo babbo Lui aveva questa Idea Nella Diciamo Nella sua vita Che voleva brevettare qualcosa Voleva diventare inventore Quindi ha brevettato Questo Accessorio Questo zaino con le ruote Che useremo Per andare a fare il cammino Con il mercatino Che tu apri il carrello Infatti qui non so Ci siano delle pedine Se ci sono Che cosa ci sia Magari Starebbe bene Un omino Con questo carretto Sì Poi racconterò anche un po' Come è arrivata Questa veste grafica Vai vai Ma racconta pure Perché io non so niente del gioco Ma infatti A scatola chiusa Nel vero senso Quindi in questo percorso In cui ho Unito pezzi Meccaniche Avevo un approccio Molto Hobbistico Quindi dicevo Ah vediamo cosa succede Se metto assieme Un dado A A una carta A un cartoncino A un tabellone Vediamo di fare Rendere Di creare Un equilibrio Tra questi elementi E quindi Ho passato anni In cui partivo Da delle meccaniche Cercavo di ambientarle Spesso anche Smontandole Più e più volte Quindi Un gioco E ho passato Da un gioco Di elettronica Circuiteria Bit E transistor A un gioco Di Cioè la stessa meccanica Riembientata Con Fabbriche Elettriche Nucleare eccetera Ad ancora Un mercato Ortofruttico Quindi tu avevi Il meccanismo Del gioco Diciamo le regole Ti mancava Come ambientarlo No no Sto facendo il percorso Per cui dico Questo è il mio approccio iniziale In cui facevi i miei esperimenti Prendevo Io smontavo E rimattevo lì La scintilla di questo gioco Nasce Comunque Diciamo Dal lavoro precedente Per cui Facendo vedere Le mie meccaniche I miei vari spunti Senso il reale Ambiente A questo amico di Como Alessio Rimoldi Appunto Della Dominione Editore Lui A distanza di tempo Perché poi Ho abitato Lontano dalla Vena Sono tornato Lui mi contatta E dice Vogliamo fare un salto Di qualità Lui ha questa casa editrice Per cui Loro vendono solo libri Sono una libreria locale di Como E in questa libreria Lui però Si diletta A creare Tra le dirette Semplici giochi Da tavolo Quindi per esempio Ha reambientato Il gioco dell'Oca Ha fatto il gioco dell'Oca di Bergamo Ha fatto la tombola di Como Del lago di Como Fa tutte queste cose Poi ha creato Anche qualcosa di nuovo Assieme ad altri collaboratori Tipo ha fatto il gioco Dell'Umarel Che comunque ha venduto Migliaia di copie Quindi per il mercato Lui di con migliaia di copie Tanta roba E lui mi contatta E dice Guarda vogliamo fare Un salto di qualità Premessa che sappia anche tu Però non hai mai creato Giochi da tavolo Cioè nel senso Non hai mai pubblicato Quindi non sei un autore Professionista Però in te vediamo Un approccio professionale Quindi vogliamo provare A darti una tematica Su cui fare un gioco E a me è venuta La pelle d'Oca Perché non avevo mai Avuto una commissione E sentire che lui Comunque poteva Rivolgersi a dei professionisti Quindi con un nome Non dico quel Daniele Tascini Di cui ti ho parlato prima Ma persone che lo fanno Di lavoro Lui ha pensato a me Che avevano già Un certo curriculum Quindi per me Ovviamente accettato Subito Super entusiasta Mi vedete quanto sono Entusiasta nel raccontare Di tutto e di più Quindi fantastico Metti giù la chiamata E ti sale l'ansia Perché dici Ok Lui In amicizia Ma ti contatta A livello professionale Quindi da te Si aspetta un prodotto Un qualcosa Che Professionale Deve essere vendibile Prima che vendibile Pubblicato E se loro ti dicono Non voglio anche mettere il dado Il dado non lo metti Se loro ti danno come parametro La cosa X Gli la devi mettere Perché E che parametri ti avevano dato? Ti avevano dato questa ambientazione loro? Quindi Mi avevano dato una lista di cose Di ambientazione Perché a loro volta Si erano affidati a un consulente Quindi avevano tirato fuori 10 città Il cammino di Santiago Si sviluppa su 800 km 819, qualcosa Quindi Già Questo è un dato che salterà fuori dopo Era un elemento discordante È come dire Io devo fare un gioco Su tutta Italia Che attraversi l'Italia E li metti dentro 10 città Che a livello Di semplificazione ludica Può andare bene Ma se deve essere un prodotto commerciale Più città li metti dentro E più lo vai a vendere Quindi E trovare il giusto equilibrio Quindi esempio Se io nel gioco dell'Italia Metto soltanto Napoli e Roma Io perché città di Frosinone Devo vendere il mio gioco a Frosinone Quindi bisogna cercare di trovare un equilibrio Tra Rendere ludico il percorso Ma anche che tutti ci mangiavano Quindi metterci più città possibili Quindi includerci anche Parma Ravenna eccetera Per fare esempio Ok Chiaro Quindi loro mi hanno dato questi parametri Hanno detto Partendo da queste 10 città C'era questa cosa Premette Io non ho fatto il cammino E se il gioco andrà bene Magari per marketing Andremo anche a farlo Io sono aperto a tutto Non si sa Anche perché poi ci sono ambizioni Che sono state dichiarate Direttamente dall'editore Quindi Possiamo sbilanciarsi a dirlo Sì E quindi Tra i vari parametri Tra i vari parametri Abbiamo detto Ah ci deve essere anche come evento negativo Tipo Vai in prigione di Monopoly Deve esserci le Come manus Le 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 vesciche Perché comunque Cioè Il camminatore Intanto soffre di questa cosa Quindi Io mi devo Dei parametri ABC 1, 2, 3 E ho cercato di fare una matrice E Ho detto Ok Intanto guardiamo fisicamente Come è fatto il cammino Deve essere un gioco di percorso Quindi da lì Ho creato il mio tabellone Ho creato delle planche Che purtroppo non è dietro a far vedere Ma Per vedere un po' queste cose Di due anni fa E' fantastico Sì planche in cui c'era disegnato Temporanee Planche cosa intendi Planche in cui c'era Delle track Dove c'era disegnato Questo pellegrino Disegnato da me malissimo Quindi aveva Lo zaino dietro E lo zaino era a forma di gria Quindi lì andavi a stoccare le cose C'era il cervello In cui c'erano i punti mente Ma qui si iniziano ad anticipare Mente Fisico e spirito Beh a questo punto possiamo anche Sfoderare Prima di aprire Abbiamo Abbiamo questo pellegrino Per cui c'era lo zaino Che spoiler sotto rimosso Abbiamo il cervello Che è la mente Abbiamo il cuore Che erano i punti fatica I punti fisicità E l'ultimo parametro Era appunto lo spirito Che andava ad accumulare Quindi andando a unire Questi tre puntini Io ho detto Ok Ho lavorato per un mese Soltanto sulla parte del brainstorm Io ho presentato il progetto Essendo lui di Como Su Whatsapp Ci sa vedere un po' Così dice Ma mi piace Cosa succede? La svolta arriva Quando noi autori Ogni tot In tutte le parti Un po' d'Italia Adesso per esempio C'è la parma Quest'evento Si chiama Idea G Che ci sia il gioco Quasi pronto alla stampa Quasi già con un contratto editoriale O che ci sia l'idea Con i numeri E le bigliettini lette Che dicevo prima Uno va a caricare sto gioco Poi è un po' Buon gioco dare a avere Per cui Io provo il tuo prototipo Tu provi il mio Ok Ci si dà dei feedback Ci si dà dei feedback Apparecchio questa cosa E Idea G era Ravenna Idea G era Ravenna Quando? Quando è stata? Quando è stato? È stato due anni fa È l'inizio dell'estate scorsa Quindi cosa succede? Io in tutto questo Poi Adesso sono diventato Ufficialmente autore Ma prima ero collaboratore Cioè ero Già facevo il collaboratore Ed è una collaborazione Che continua ad esserci Con questa ditta di sviluppo Chiamata Cobblepot Games Circe Ser Cobblepot E quindi con loro Io vedo prodotti internazionali Che loro fanno giochi In dodici lingue Hanno fatto per esempio Ultimamente il gioco Della casa di carta Con licenza Netflix Fanno dei giochi Da dieci anni Tradotti in dodici lingue Per cui c'è stata Una terza edizione Cioè fanno di tutto E il capo Mi ha preso per le orecchie E mi ha detto Io ti insulto Perché cioè Tu mi fai un gioco Sul comune di Santiago E non ce lo dici Allora da lì Io ho spiegato la storia E ho detto Guarda Questo amico Mi commissiona il gioco Vediamo di trovare Una quadra Tutte e tre Abbiamo fissato Dei meeting su Google Google Meet E abbiamo trovato la quadra Per cui Ora finalmente Possiamo chiudere il cerchio Per cui Io come vedete Sono l'autore La Circe Ser Cobblepot Cobblepot Games È la ditta di sviluppo E l'editore È quel dominion editore Di Como Da lì Quindi non è un lavoro Diciamo a sei mani Ognuno ha La sua parte Sì esatto Mi piace parlare Dell'azienda con cui collaboro Per cui loro dicono Noi non siamo il classico editore Cioè Tu autore Sieni da me Io non ti dico Te lo pubblico Io lavoro sul progetto E faccio da tramite Affinché Dicevo prima ad esempio Un Clementoni Mi pubblichi il gioco Io non creo il gioco Loro si piace A loro piace paragonarsi Come un po' Lo staff che crea un film Quindi C'è l'addetto alla fotografia L'addetto alla musica L'addetto al paesaggio Eccetera E in questo gruppo di persone In cui ho l'onore Di partecipare Di collaborare Eccetera Per cui mi hanno già messo In dei crediti Di alcuni giochi Che sono usciti Cioè proprio l'addetto Il direttore autistico Cioè il team principal Ognuno fa il suo E quindi il dominione editore Che mi contatta Per fare un salto Di qualità Con loro ha avuto Un'iperbole Per cui siamo andati Sulla luna Siamo perché Sulla navicella Ci sono anch'io Quindi da lì Il lavoro è stato rifatto Tutto Cioè Hanno preso il mio gioco Hanno detto Ok Togliamo 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 E da quella panoramica Che vi facevo Ora possiamo aprire il gioco Vai che io Ti ho chiamato solo per quello Per aprire il gioco Qua c'è anche la derica chiara A chi l'hai dedicato? La chiara? Vai leggi 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 Allora Dietro ogni uomo C'è una grande donna Virgolettato Il tuo tempo La tua pazienza E il tuo sostegno Ti vedo Ti sento Dietro Sopra E davanti A ogni cosa Ci sei sempre stata tu Tu chiara mia Che sei Ogni mia emozione Tu che sei Tu che senza te Nulla sarebbe così bello Per te A noi Il cammino Da nostra vita Vabbè Quindi Il gioco È diventato un gioco Composto Io imbusto sempre Tutti i giochi Seguiamoci Sono imbusto il mio Vai Adesso che faccio Il video in prima persona Il gioco È un gioco composto Da Che è stato Reso un minimo asimmetrico Per cui ci sono Dei pellegrini Ognuno con una piccola caratteristica Quindi di base Qual è la regola di base Non ho ancora capito La regola di base C'è un tabellone Tipo gioco dell'oro Allora Gioco di carte Esatto Partiamo così Il tabellone È proprio il cammino Che vuoi fare Storicamente come funziona Dicevo che il cammino di Santiago Si sviluppa su 800 E passa chilometri Dal momento che però Quando tu parti A fare il cammino Quando parti a fare il cammino Ti danno Proprio un documento In cui tu Di città in città Andrai a mettere i timbri Un po' per esempio Come se fosse Le palestre dei Pokémon Cioè tu vai proprio così Sì Cosa succede Che quando tu arrivi a Santiago Se tu dichiari Tramite timbri Di aver accumulato Almeno 100 km Allora ti danno l'attestato Che è questa compostella Che è la conchiglia Ok La conchiglia Che qua si vede È questo simbolo qua E che questo non è Questo è un logo Creato dall'azienda Ma che esiste realmente Perché lungo tutto il percorso C'è la colonnina Con sfondo blu Conchiglia gialla Che ti dice Ah mancano x km A Santiago Quindi La plancia Non esiste una plancia Nella mia realizzazione c'era Ma qui no Il gioco è dinamico Quindi io posso decidere Di fare una partita Tra virgolette breve Con solo gli ultimi 100 km O da lì allungarla Fino ad arrivare Quindi queste sono Le carte percorso Queste sono le carte percorso Che appunto vanno Un po' come facevo prima L'esempio Non hanno solo Napoli Roma e Milano Ma hanno tutte le frazioncine Quindi dato che siamo a Ravenna Posso fare un esempio mirato È come dire che In ogni carta ci sono Da una a quattro Frazioni E le frazioni Sono paesi talmente piccoli Che possiamo inquadrarli Come Santerno Alfonsine Portofuori Quindi vuol dire Che proprio a livello di marketing Deve essere spinto Perché appunto In questi 800 km Ci sono paesi Per cui È stato difficile Trovare una documentazione Ognuno si sente A casa E la cosa interessante Adesso che ho orgoglioso Del lavoro di tutto il gruppo È che anche noi A nostra volta Abbiamo assunto un consulente Per cui Per ogni paesino È stata fatta una descrizione Ok Ora tu immagina Di Piangipano Di Santerno Fare la descrizione Cosa puoi scrivere E si è riusciti Di questi paesini Così piccoli A tirar fuori qualcosa No Quindi Il gioco come si sviluppa Il gioco È un gioco Da 1 a 5 giocatori Quindi queste carte Che sono le carte percorso Ne puoi mettere Quante ne vuoi A seconda di quanto Vuoi far lunga Mantenendo ovviamente La coerenza Geografica Quindi Decrescente Quindi 1 a seconda Del numero di giocatori Esatto Il numero di giocatori È da 1 a 5 Quindi posso fare Una partita di dinamica In solitaria Con 31 carte In 4 giocatori Con 20 carte Quello che mi pare Capito Quindi cosa succede Che ogni Tutti i giocatori Partono Da un punto di partenza Ok E ogni giocatore Diciamo In gergo tecnico Si chiama Un pusher luck Quindi è Decido fino a dove spingermi Sì Tutti i giocatori Dicono Dichiarano un punto di arrivo Quindi per esempio Il giallo dichiara Arrivo alla terza città Alla terza frazione Che in questo caso È la faba Il giocatore blu Arriva per esempio A Occerberio E così via Cosa succede? Tutti i giocatori Si spostano insieme E c'è un mazzo E 20 Che Diciamo È una sorta di Piccolo lanzo di dado Non c'è il dado Non c'è il dado però No Il dado dice anche Mascherato Perché ogni evento Cioè peschi la carta Ogni evento che fai A seconda del livello Di difficoltà Ti dice Ok Mettiamo Questa tratta è breve Ma È scoscesa Quindi avrà difficoltà 3 Magari questa tratta È molto più lunga Ma difficoltà 1 Perché è pianeggiante Ok Quindi cosa succede? Tutti i giocatori Che si trovano più indietro Nel primo turno Saranno tutti assieme Ma poi si parte Sfrazionati Tutti i giocatori Si spostano Nella tappa successiva E ogni giocatore Sul suo taccuino Andrà ad annotare I punti mente Che ha accumulato In quel livello Piuttosto che i punti fatica Quando il giocatore arriva Termina il suo conteggio Ma tutti gli altri Vanno avanti Prima di andare avanti Con queste cose Questi punti da dove Esatto Questi punti da dove si prendono Ogni giocatore Dicevo Quindi Volevo presentare I due componenti Base Abbiamo Il percorso Quindi Santiago E poi il giocatore Ha quelle tre caratteristiche Che ritenevo fondamentali Che poi È l'idea essenziale Rimasta dal mio prototipo iniziale Che sono quelle sulla scatola Mente Corpo e spirito Ognuno quindi Avrà dei parametri Un po' differenti Per rendere ludica la cosa E poi avrà anche Una piccola abilità Quindi Uno ha questi parametri Per tutta Sì Uno ha questi parametri Per tutta la partita E quindi in base A questi Di dosi un po' È importante fare Una premessa Che avrei dovuto dire all'inizio Ma Diceva anche Mi emoziona Vedere tutte queste cose E mi perdo Non ho una scaletta Per cui Andiamo a braccio In un gioco In un gioco Di percorso La prima cosa Che ti viene da pensare È Vince Che arriva prima Esatto Questo ovviamente È il concetto sbagliato Per cui Non vince Lo Svazenegger Ma può vincere Anche la suora Per fare un esempio Quindi L'innovazione Di questo gioco Cioè Che segue un filone Per cui Non molti giochi Lo fanno È Non vince Che arriva prima Non vince Neanche la formichina Che fa più turni Per accumulare più punti Ma vince Chi fa il percorso Nel modo migliore Chi ottimizza L'esperienza Di gioco Quindi E questa Questa ottimizzazione Come siamo riusciti Esatto Come siamo riusciti A ottenere questa cosa Realmente interessante E apprezzata ai giocatori Facciamo l'esempio Di queste due carte Per cui c'è Un personaggio Che ha Quattro di Di spirito Scusate Quattro di Di fisico E un personaggio Che ha Sei di fisico Se vogliamo fare l'esempio La suora è quella con quattro E svazenegra è quello che ha sei Qual è il principio ludico Di questo gioco Che Se il giocatore Che ha Quando tu arrivi Il Il tuo La tua pedina Arriva nel punto Che hai dichiarato Ha totalizzato Esattamente Quella fatica Allora Vieni premiato Con il massimo Dei punti che hai accumulato Viceversa Se lo eccedi O ti risparmi Vieni penalizzato Quindi per far l'esempio Se Svazenegra con sei Accumula solo Tre punti fatica Lui verrà penalizzato Di tre punti Quindi la differenza Perché Non ha vissuto bene Quella giornata di cammino In quanto si è risparmiato Viceversa Ok Se la sua ora Accumula dieci punti di fatica Di quattro Ne togli Ne togli Dieci Quindi avrà un meno sei Sempre la differenza Ok Per dire E questo vale sia per Energia Che per No Quindi come funziona Ma che io durante Quindi io cosa succede A seconda del livello in cui vado Io dico ok Mi sono spostato Il rosso Faccio anche Si sposta Il rosso Si sposta Dalla prima tappa Quindi da Hospital De Condesa A Von Fria Si sposta qua Gira una carta Di livello 2 Quindi il livello 2 dice Accumuli Un fulmine Quindi una mente E due cuori E così via Ok A inizio partita I giocatori Annotano I tre valori Fulmine Cuore E fiamma Nei Nei parametri iniziali Che vuol dire A prescindere da Quanti punti Accumulerai durante la partita Il massimo È 5 Abbiamo detto che Il numero di cuori Della tua caratteristica È quello che devi totalizzare E tre È un piccolo incrementatore Che spiego dopo Quindi cosa succede Arrivo nella mia tappa finale Ho accumulato Tot punti Mantengo O i punti O i punti massimi Che posso fare O di meno Ok E poi Sottrago Cioè se arrivi con Il punteggio esatto Di fatica Mantieni quei punti Esatto Se no ti tolgono E poi cosa succede Dicevo Le carte che giri Possano avere Uno, due, tre O nessun incontro A livello di simulazione Del gioco È come dire Le carte che hanno Solo Adesso le trovo Ecco Le carte che hanno Soltanto Un omino Vuol dire che hai fatto L'incontro con te stesso Quindi è Una giornata Un tratto Del cammino In cui hai camminato da solo E hai riflettuto Viceversa Le carte con due Vuol dire che hai vissuto Quel tratto di cammino Con altri Facendo delle chiacchiere Quindi arricchendoti A livello emozionale E le carte da tre Vuol dire che hai fatto Proprio un incontro Con tutti Quindi A livello A livello Esatto A livello ludico Come si trasforma Che Se tu durante il tuo cammino Hai totalizzato Tutti e tre I tipi di incontri Andrai a A fare il tris E quindi ottieni anche I punti della fiamma Ah ok Poi ognuno C'ha dei parametri A concludere un po' Come si gioca Quando tu termini Su una carta Possono esserci Degli indicatori Quindi se termini Dove c'è Uno, due, tre incontri Lo crocetti Se non ce l'avevi Lo aggiungi Se no Inutile Poi c'è il simbolo Della luna Che ti permette Di aggiungere O togliere una fatica Quindi Avvicinare il delta Puoi farlo Nell'obbligatorio E in ultimo Il simbolo rosso Che è il monumento Quindi vuol dire La tua giornata È migliorata Perché hai visto qualcosa Oltre che il paesaggio Che ti dà due fumi in più Quindi come funziona Dicevo Non vince chi arriva prima Non vince chi fa la formichina Ma vince chi fa Il corso migliore Quindi Arriveranno Sfasati i giocatori Quando tutti sono arrivati Vinci ovviamente Chi ha più punti Ah capito Capito Qui vedo tante righe Quindi vuol dire che Sì Ogni riga È Ogni riga È un turno Un turno Quindi abbiamo detto Che un turno Si vive in due rangi Quindi Ognuno ha un foglio di questi Mette anche io Esatto Durante il mio turno Pianifico di fare tre tappe Sommerò Valore della prima carta Più valore della seconda E terza In orizzontale E poi Quindi ogni carta È una tappa O le tappe sono le singole righe Ogni carta Tecnicamente Ogni carta È chiamata tappa E all'interno di ogni tappa Ci sono Da due a quattro frazioni Ah ok Le frazioni E quindi uno L'obiettivo Se lo dà all'interno Della tappa O se lo può dare Io posso dire anche Cioè Spesso capiterà che Gli obiettivi Cioè Lo spostamento Inizia su una carta Tappa E finisce su una carta Un'altra carta tappa Quindi Comunque da una frazione A una frazione più vicina a Santiago Ah No ok È chiaro Ma su un'altra carta tappa Sì sì Cioè io posso anche dire Cioè perché uno deve Diciamo Ipotizzare Quanta energia Consumerà Esatto Diciamo che dopo un poche giochi Capisci che i numeri Bene o male Vanno da Uno a tre fulmini Ma i fulmini Più ne è meglio è Cioè non sfora mai E capisci che il livello Uno può avere da zero Due cuori Il livello tre Può avere da uno a tre cuori Quindi bene o male Dici ok In questo Mi aspettano Due carte Di livello cinque Stimo Di sommare due e mezzo Se ti va bene Bene Sennò pazienza Però a seconda di quelle Di quel punteggio Che uno si aspetta Sì esatto Vai e dici ok Io arriverò qua E perciò sai che Girerai tre carte E in quelle tre carte Aggiungerai i valori Diciamo che se uno invece La mette prima Risparma energia Quindi ha dei Sì poi come dicevo Se uno invece la mette Oltre e ci arriva stanco Stessa cosa Esatto Tu comunque Dove dichiari Devi fermarti A meno di piccoli effetti Perché c'è Il pellegrino che dice Se transiti Su una carta In cui c'è Un museo No Le lune Sono gli ostelli Quindi Un po' i dormitori Quindi se transiti Su una carta In cui c'è il simbolo luna Puoi decidere di fermarti Mentre anche tu stimavi Di Totalizzare La luna che è il simbolo Che ti dà un punto Quindi mettiamo Sì è lo sello Quindi mette anche io Stimo di arrivare Nella carta successiva Ma Arrivato su una carta Con la luna Vedo che sono già pari Io per l'effetto Di quella carta Dico mi fermo qua Quindi non rischio di sforare Perché potrei solo sforare C'è quella carta Che ti dice Ogni volta che fai un incontro Quindi che il crocetto 1, 2, 3 Sarà un punto A fine partita C'è quella carta Che ti dice Quando tu sei in una tappa Di 1, 2 Puoi decidere In quel momento Non dopo Ma in quel momento Di aggiungerti Una fatica Quindi piccoli modificatori Che ti permettono Di far partite Sempre dinamiche Infatti è molto interessante Ci sono un sacco di Sì E l'altra cosa interessante Appunto dicevo Essendoci 10 personaggi Che hanno 1, 2, 3 stelline Dove la stellina Non vuol dire Essere più o meno potente Ma Giocatori all'inizio Magari possono scegliere Personaggi con una stella Che sono più semplici Giocatori Tra l'altro più esperti De 3 Ma quindi il personaggio Può essere scelto Sì sì Il personaggio può essere scelto E questa appunto In dinamica la cosa Per cui a parità di 5 fulmine e 5 cuori Uno in effetto Uno l'altro Quindi magari uno si spinge E poi si ferma prima Poi per aggiungere Qualche dettaglio Vengono chiamate Informazioni flavor Quindi che non sono utili al gioco Ma che detengono l'ambientazione Ogni carta sopra Ha una piccola citazione Tipo di Paolo Coelho Io sono nato pellegrino Quindi Mentre giochi Ovviamente magari Le prime partite La vuol dire di più Dopo andrà più sferito Ma ogni carta Racconta anche un po' la storia E poi ogni carta Appunto Informazioni flavor Dicevo che ci sono un po' I chilometri da fare Che ti allontanano Da Santiago Eh Infatti li notavo Ma anche le grafiche Sono bellissime Le grafiche Le ha fatte sempre Il nostro amico collaboratore Demi Savini Poi qui c'è un po' La mia biografia La descrizione Qui ci sono i tre personaggi Chiamati in casa Quindi Giacomo Che è un po' Il team principal Della Cobblepot Poi ci sono Alessio e Alessandro Che sono i due ragazzi Di Dominioni Qui ci sono un po' Tutti Insomma Chi ha realizzato il gioco Sì Le varie dediche Eccetera Infatti vedevo I disegni Tutte le Indicazioni Quell'altra cosa interessante Questi sono i chilometri reali Sì sì certo Ogni dato è reale E come dicevo È stato un esperimento Cioè È stata un'indagine Un'indagine interessante Trovare la quadra Tra elementi utili al gioco E elementi utili commercialmente Ah è chiaro Quindi bisogna cercare di mettere Più città possibili Ma che non eccedessero Per questa cosa ludica Prendendo in mano la carta Tra l'altro vedo che c'è Una parte del percorso nero Vi faccio vedere Che è stata creata Anche una piccola variante Per cui dal momento che il cammino Sono tutte cose storiche Non inventate per il gioco Può essere fatta anche di inverno Allora cosa succede Che il cammino C'è una piccola variante Per cui tu Sposti Giri le carte E ottieni la variante invernale Sul retro c'è la variante No Sì Sul retro c'è la variante invernale E ovviamente poi Ad un certo punto Si congiungerà Vabbè adesso non c'è spazio Ma sul retro si congiungerà Con il percorso bianco Quindi Voi immaginate Che Non immaginate così Che Congiungendo tutte le carte Il regolamento infatti è fatto Come se noi partissimo Da Da ovest della Spagna E ci spostassimo All'inizio della Franza Quindi ci sono tutte le carte Che vanno a creare Il cammino francese E adesso vi spiego Perché cammino francese Poi dicevo C'è questa variante Per cui tu puoi girare le carte E poi pian piano si congiunge Quindi Quindi Una volta arrivato A un certo punto Tu continui girando le carte Sì Cioè tu le disponi tutte E prima o poi Ecco Ecco Prima o poi Il cammino Si ricongiunge Quindi Se tu dici Io faccio il cammino invernale Quindi a dicembre Tu pian piano Avrai dei tratti Che non sono impervi O non c'è rischio Ghiaccio e neve Quindi farai Lo stesso percorso Estivo Ma in altri Che prendi Delle sorte Di deviazioni E tra l'altro Poi questa piccola cosa Oltre che Avere un percorso Differente Le carte con l'evento Ghiaccio Aggiungono anche Una piccola modifica Quindi Piccole varie abilità No bello Ma a me Voglio far esplodere la testa Anche solo pensare A tutta la dinamica Del gioco Poi Cioè Tutti i meccanismi Che ci sono Che Qualcuno si è ventato E quel qualcuno Ce l'ho in questa stanza Stavolta Parlavamo prima di ambizioni Perché Avvio tanti discorsi E spero di riprendere un po' tutti Qui l'abbiamo chiamata Versione italiana Edizione italiana Al momento Tra parentesi L'unica Ma l'ambizione Di fare un progetto del genere In cui abbiamo detto Tutti devono mangiarci Cioè devono essere più paesi possibili È Nell'ottica Dell'editore Arrivare a Santiago Arrivare a Santiago Cosa vuol dire? Che questo gioco Diventa multilingua Che la scatola Che al momento fai Quanto può essere Una spanna per una spanna 25-25 20-26 cm Diventa una versione pocket Con un sacchetto Magari Una sacca di nylon Impermeabile Per cui A fine del tuo cammino Tu lo compri Te lo leghi sulla sacca E quindi Multilingua Versione Travel Chi fa il cammino Durante il cammino Si trova Un gadget del genere L'editore si è proprio sbilanciato In un'intervista Che ha fatto per radio In una radio locale di Como Dicendo Questo è il nostro obiettivo Quindi Noi Della Cobblepot Eravamo partiti con questo Obiettivo finale Poi gli ha detto Partiamo con un target Più piccolo Della libreria E comunque Di queste copie Ne sono state fatte migliaia Quindi L'editore crede molto In questo prodotto Siamo andati A presentarlo In una chiesa a Bologna Che è Un incontro Di pellegrini Che spesso pianificano Questa cosa E quindi Le ambizioni Magari possono essere Perché da lì Arrivi a fare escalation Arrivi in Vaticano Chissà I contatti sono tanti Bello Complimenti Grazie Magari una domanda Conclusiva Che poi c'è Hai già detto Tutto Tipo Cosa rappresenta Per te questo gioco Bix Una domanda Che mi viene dal cuore Che cosa rappresenta Per te questo gioco Allora Oltre a come scritto Sul regolamento Che questo rappresenta Un po' La mia compostela Che appunto L'attestato Che danno a fine cammino Quindi questo è Il mio primo cammino La mia prima compostela Io in questo gioco Vedo la punta Di un iceberg Perché Perché Intanto Mai sentirsi appagati Cioè una volta Che esce Dici bello Ma Io sono fatto così Questo è solo l'inizio Poi Io sono fatto così Una volta raggiunto Un obiettivo Non mi piace Star fermo Cioè tipo Io d'estate Io faccio l'arbitro di calcio Quando d'estate in un arbitro Dico ma Facciamo qualcosa Facciamo qualcosa anche Quindi creiamo intanto Un gioco Quindi questo per me È La punta Di un iceberg Di anni di lavoro In cui prima Raccontavo Per anni Ho creato le mie meccaniche In laboratorio Un po' come In questo In questo stanzino E ho anche progetti Conclusi Che magari Con i miei amici Li proviamo Eccetera Questi ideaggi Di cui raccontavo Funzionano Ma che non hanno trovato Un editore Quindi altro appello ai editori Ciao se volete Editori Sapete dove trovarlo Quindi Quindi cosa succede Che molti di questi giochi Magari Erano interessanti Ma l'editore Per scelte di marketing Eccetera Dice Sì e no Ora che il mio nome Comunque si può dire esiste Non dico che esiste un escalation Ma Ah Fabio Bicocchi Ha creato questo gioco Quindi Hai un precedente Ora c'è un precedente C'è un precedente L'editore dice Ah magari vedo che Il suo primo gioco venduto Va bene Quindi Sì e no Voglio seguire l'onda Se fino a ieri Questo gioco suo Mi interessava Non lo pubblicavo Magari Sfruttare il suo nome Di un gioco che è andato bene Faccio l'esempio con le pinze È come dire Io i film di Leonardo DiCaprio Me li vado a vedere a prescindere Non mi interessa E' chiaro Quindi Io sono il Leonardo DiCaprio Il nuovo dei giochi Per cui Tutti gli editori diranno Ah pubblico il suo gioco Senza sapere neanche Di cosa tratta Perché ne ha già fatto un altro Quindi la gente compra il gioco Perché è di Fabio Non perché tratta X Ti stai facendo un nome Stai facendo la tua carriera A parte gli scherzi No A parte gli scherzi La cosa più appagante Di questo gioco È Vedere come Il gioco Comunque Nasce Con degli studi Di quasi Una totalità Dello staff Che non ha fatto il cammino A parte il consulente Che l'ha fatto tre volte Quindi La cosa interessante In generale Del gioco da tavolo È Cercare di studiare Un'emozione Che vorrei suscitare Nei giocatori E apparecare questo gioco Davanti ai pellegrini E vedere che Le emozioni che volevano suscitare Loro le rivivevano Le rivivono Giocando Emozionandosi Dicendo Cavolo Mi ricordo quando ho fatto Questa tratta Che in effetti Andare fino a qui È stato difficile Che c'era questa tendenza Che c'era questa difficoltà È bellissimo E parlando dei pellegrini Per chiudere un po' il discorso È ancora più emozionante Imparare il tuo gioco Da chi lo vive Non da chi lo gioca Perché io Come ho fatto più volte In questa In questa intervista Ho chiamato Il parametro Fisico L'ho chiamato cuore Ma perché noi Per un anno Un anno e mezzo Abbiamo lavorato Su questa cosa E allungare i termini Era pesante Oltre all'uso Di quello che dobbiamo fare Quindi cerchi la cosa immediata Cuore Fumi Eccetera Quindi il pellegrino Che ti sgrida E dice Tu devi farmi vivere il gioco Non devi farmi giocare Quindi tu non devi dirmi Vai nella seconda frazione Tu devi dirmi Vado a Leon Tu non devi dirmi Non devi dirmi L'abilità del pellegrino Tu devi dirmi La sua caratteristica E quindi Imparare da loro Una cosa Che tu hai creato Ma che comunque Se loro riescono a fartela vivere Perché tu Sotto l'hai studiata bene È Inizio Loro chiudono Ti danno lo spunto E chiudi il cerchio È bello Quindi rimane solo da fare il cammino Rimane da fare il cammino No Comunque come dicevi Anche fare il cammino Può essere Un'ottima idea Di marketing Anche perché Metti che uno Sta facendo il cammino E si ferma Con lo zano del tuo amico Con lo zano del tuo amico Vede Nelle città Nelle frazioni Ci saranno Delle edicole Che vendono Il gioco del cammino Di Santiago Esatto Ah ecco L'altra cosa che dicevo Importante Perché c'è scritto sulla scatola Quindi non per allungare C'è scritto Cammino francese Perché cammino francese? Voi immaginate che partite Dai confini della Svizzera Tipo da Lugano E arrivate fino alla Sicilia Ma per quei dieci chilometri Che sono Della Svizzera Il gioco non si chiama Cammino italiano Ma cammino francese Cammino svizzero Ecco La prima carta Cioè La carta più lontana Che è appunto Saint-Jean-de-Port Come vedete Ha la banderina francese Quindi Se noi facessimo tutto il percorso Giocheremo dalla carta 31 in qua Quindi Per questa Prima tappa Che fai dalla Francia Il cammino È definito il cammino francese Ma in realtà Si sviluppa lungo tutto il portogallo Ma non partiva dalla Dalla Spagna? Esatto Proprio questa è la cosa interessante Cioè Il cammino viene definito francese Perché abbiamo Le prime due città Che sono in Francia I puristi Cosa fanno? Arrivati a Santiago Che è vicino al mare Arrivano a Philister Quindi Qui è Uno spoiler di mercato Che puoi fare Cioè Questo è il cammino francese Ma questo Nasce come idea di brand Diventa il cammino francese Poi puoi fare il cammino portoghese Puoi fare Spostato di ambientazione Il cammino degli idee in Italia Puoi creare l'espansione Puoi creare il mazzetto espansione Che dopo essere arrivato a Santiago Aggiungi altre carte Fai anche Le ultime tot carte Che ti portano a Philister Quindi L'idea di questo brand Che può crescere Sia come forma Diventando un formato pocket Che Come 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 ambientazione Come ambientazione Come espansioni Prendiamo un'altra cosa con le pinze Tanto ho citato Leonardo Di Capri Quindi posso far Puoi esagerare È come dire che Una volta che il monopoli funziona Fa il monopoli Ambientazione Topolino Monopoli ambientazione Cambi il nome delle vie Eccetera Più tutte le potenzialità Di rigiocabilità Quindi dicevamo Vi raccontavo che Quando tu inizi a fare il cammino Hai un attestato In cui dichiari Lo faccio a piedi Queste sono cose ufficiali Lo faccio a piedi Lo faccio a cavallo O lo faccio in bici Tra l'altro poi A cavallo Sì perché nel regolamento C'è anche tutto Il racconto storico Che ti spiega un po' Come nasce Il cammino La parte medievale Eccetera Infatti un'altra cosa del gioco È che il gioco Cerca il più possibile Di avere delle ambientazioni A storiche Cioè tu quando giochi a questa cosa Non devi pensare Siamo nel 2024 Quindi ho l'orologio Che mi monitora i parametri Ma sono un giocatore Fuori contesto L'unica cosa contestualizzata È stato il disegno Di questo pellegrino Che per lo studio Di alcuni elementi C'è la compostella Con chi è attaccata Eccetera C'è il bastone tipico Quindi questo è stato L'unico elemento Che dà Un contesto storico Ma il gioco è giocabile In ogni era Quindi Dicevo Nel regolamento Ci sono un po' Tutte queste note storiche Rispetto al racconto iniziale Che vi ho fatto Per cui stavo Un po' come adesso Nel mio laboratorio A creare Dadi che si spostano Eccetera Prima avevo Un approccio Hobbistico Adesso è un approccio Professionale Quindi Anche per futuri lavori Sviluppi e lavori Su commissioni Più che altro Commissioni magari Ne arrivassero Per ora no Però Forse Quindi adesso cosa faccio Non dico Ho questi due elementi Ho due gettoni Una carta Cosa ci faccio Ma Quella Quell'ambientazione lì Mi fa pensare All'emozione da suscitare Sì E allora Sposto tutte le cose Per forzarle E dire Se funziona così bene Se no Lo metto da parte Perché cosa succede Dopo comunque Anni e anni Che crei cose Che stagli anche in soffitta Poi la cosa bella È prendere una cosa vecchia Tipo il nostro amico Dei boscaioli Trovi la svolta E magari riduci La componentistica E trovi quella regoletta Stupida Ma che non pensai Perché quando sei dentro A un progetto Non riesci a vederlo da fuori E quindi Sei anche innamorato Di questa cosa È impossibile che sia brutto Ma se la guardi Con distanza Serve Diciamo che I progetti Devi anche lasciarli lì Un po' Certe volte E poi Infatti adesso Ho trovato un po' Questa cosa Molto con le pinze Da influencer di LinkedIn Nel senso Ho cambiato lavoro È un'azienda molto smart Che usa LinkedIn Si chiama Peer Network Saluto tutti Ciao E lì ho visto che Risco a creare parallelismi Tra lavoro Da sviluppatore software E sviluppatore di giochi da tavolo Per cui Vedo che gli argomenti Che tiro fuori Interessano Quindi Alla fine Lo sviluppatore informatico Di giochi Affinità Perché Entrambi hanno un utente Da soddisfare Il giocatore Ho chiuso l'applicazione Entrambi devono fare riferimento A una user experience Quindi trovo questi parallelismi Mi piace Sviscerare un po' La mia Chiamiamola carriera E fare piccole pillole Raccontando questo E quest'altro Perché comunque Poi come dicevo prima Devi annotarti ogni cosa Che ti passa per la testa Quando tu perdi un'idea È la cosa più brutta Io facendo un'analisi Di tutti i lavori Che ho a mezzo Dove per lavori che ho a mezzo Tolto questo Che grazie È finito Cioè È stato pubblicato Perché ci sono altri lavori Ma A partire dal gioco Che non è mai uscito Ma che è giocabile Ho l'idea per cui dico Ah Questo può essere un'idea Io mi sono scritto tutto Ho scritto 60 70 giochi Da stato 0 A stato 100 Quindi Sono tutte quelle cose Che ogni tanto le riprendi Ne parli con altri colleghi autori Magari arrivi ad un bivio A un certo momento E diventano due giochi Uno lo continui E l'altro rimane lì Magari un'idea che riprenderai Esatto E qui ti ha dato fuori Un altro spunto interessante Che credo che valga anche un po' Nella musica Hai visto Eccetera Per cui Da un'idea Ne posso Nascere Vuoi far troppo Dici Queste due cose Hanno una vita a sé stante Non puoi unirle Cioè Una canzone Magari Ha concetti interessanti Ma talmente scissi Che sono due album differenti Quindi Lasciale lì e lavoraci Allo stesso modo Un gioco che non funziona Tu lo spezzi Un pezzo può diventare un gioco Un pezzo può salvarne un altro E quindi poi Le cose si dividono Si uniscono E trovano queste omestasi Ho trovato tante analogie Nel modo di lavorare A un gioco Come si lavora Infatti mi piace Il mondo musicale Come ti dicevo Condivido queste informazioni Anche con gli sviluppatori Software E mi piace Cercare di coinvolgere L'altra persona Che non ne sa Trovando analogie Quindi condivido Col tuo pubblico Dato che Tratta più un altro argomento Degli spunti per dire Ah Non è così differente Come quando per esempio Parlo con chi scrive i libri Io dico Che chi scrive i libri Il primo che esce È il sesto Settimo manoscritto Il primo prototipo Che esce Diventa un gioco È Sette anni di storia Poi magari La fortuna di uscire subito Però ecco Mi piace creare Questi parallelismi Per far capire Che a prescindere Dal tipo di prodotto Parli la stessa lingua Bix Complimenti ancora Io ti ringrazio Di essere stato qui Grazie a te Di questa intervista E Vado a montare il video Così lo pubblico subito Uh Subito Grandissimo Grande Bix Dai Spero di giocarci presto Col mio amico Appena gli do il regalo Mi faccio invitare Per una partita Ah volentieri Un'altra domanda dal cuore Tipo ci sono progetti caldi Bix Un'altra domanda dal cuore Ci sono progetti caldi Speriamo Vabbè Vedrete prossimamente Ma Come dicevo Questo è appunto Di un iceberg Di tanto lavoro Che è stato fatto E di un iceberg Che deve crescere Sopra e sotto Quindi Dar continuità Non fermarsi E Sono sotto a cercare Collaborazioni A dar forma al gioco Perché il gioco Non è solo un contenuto ludico Ma come si è visto qua È un contenuto divulgativo Che può avere varie forme Che può essere La libreria Piuttosto che L'informatico Altri spunti Quindi Lavoro tanto Non mi fermo mai Non mi sento appagato E Voglio firmare Ed è solo il primo di tanti Voglio firmare Esatto Voglio firmare tanti contratti E tanti autografi Perciò Mai fermarsi E crederci sempre Grazie Bix Grazie a te Allora Benvenuti in un nuovo video Puntata speciale In compagnia del mio amico Fabri Partate bene Era l'inizio Non era Fabrizio Perché noi Niente che ci conosciamo Tramite Fabrizio Amato Infatti ci stavo pensando prima L'amico di Calcetto Beh sono quelle scene Da mettere a fine ripresa Azzuac Mi piacciono Angelo Adesso ti faccio firmare La scatola dall'autore Scusa si chiama da gallina Però Va bene va bene Grazie Bix Grazie a tutti Grazie a tutti